l'incontro il signor cannone della sezione di Venosa coadiuvato dagli assistenti di Scuma di Venosa e Sbosito di Montero a tutti i partiti, buon divertimento tutti ci, tutti ci leoni, noi vogliamo tutti ci leoni, tutti ci, tutti ci leoni noi vogliamo tutti ci leoni noi vogliamo questa vittoria noi vogliamo questa vittoria noi vogliamo questa vittoria Noi vogliamo questa vita! 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 No vogliamo questa vita! Noi vogliamo questa vita! Noi vogliamo questa vita! No 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 vogliamo questa vita! Inolchi consigliere laiesta! Allera lei! Vistoria! Vistoria! E con il cuore lo continuo a cantare, avanti con me lo donare E con il cuore lo continuo a cantare, avanti con me lo donare E con il cuore lo continuo a cantare, avanti con me lo donare Amen Gade G paranoia ANI Vai lì, vai lì, 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 lì! Vai lì, vai lì, 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 lì Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.